Ciao ragazzi, bentornati su questo canale da una vita che non facevo un video montato sempre se farò editing, cerchiamo di farne il meno possibile siamo qua sull'account Jap, il nuovissimo account Jap che è arrivato nella mia vita circa qualche mese fa all'anniversario per vedere insieme la nuova modalità Pet & Battle questa astrosa modalità, questa nuova incognita vediamo, vediamo insieme di che cosa si tratta è già uscito da un giorno quindi abbiamo un attimino più le idee chiare si accede nel menu, c'ha un menu proprio è come se fosse un gioco all'interno del gioco e in effetti è una furbata da parte di Dokkan fare questa cosa perché ci permette di collezionare nuove carte che sono carte già esistenti sono le versioni cibi delle carte che già conosciamo il primo pacchetto di questa ondata iniziale di Pet & Battle è il pacchetto saga Saiyan fino alla saga di Namek infatti abbiamo la possibilità di collezionare entrando in questo menu vedremo questo pacchetto con il logo di Goku Super Saiyan LR e ci sono proprio gli spazi da riempire con diciamo tipo album di figurine con queste figurine che possiamo collezionare andiamo a fare le battaglie sono battaglie a tempo noi mandiamo in missione i nostri personaggi e dobbiamo battere i nemici poi il telefono può stare anche spento esattamente come le missioni che ci sono su Legend oppure su Nanatsu perché è più pratico sono appunto missioni a tempo e come potete vedere qui in alto c'è una missione già completata che abbiamo fatto ieri in livello normal questa qui sotto dove c'è il minutaggio che sta scendendo è sempre una normal che abbiamo fatto ieri da cui ho già riscattato il premio mentre invece la Super con Freezer e la Z Hard sempre con Freezer non le abbiamo affrontate perché non siamo ancora in grado con le carte iniziali di affrontarle mentre invece la Hard dove c'è Recume è una battaglia che abbiamo perso perché siamo andati con troppi pochi personaggi però per farvi capire effettivamente come funziona entriamo adesso nella normal che abbiamo battuto ieri e quando vinciamo una battaglia otteniamo i premi di quella rispettiva battaglia battaglia vinta fatta ieri siamo nello stage dei training items perché ci sono 4 tipi di stage ci sono i training items, gli zeni, le medaglie e le orb in questa battaglia vinta dove abbiamo affrontato Ginius e TR si vede lì in alto che abbiamo fatto il KO abbiamo ottenuto training item ovviamente perché lo stage delle training item e la possibilità di ottenere un altro sticker tramite una pullata quindi avverrà tutto automaticamente andando avanti con ok parte la pull vediamo cosa troviamo barter come potete vedere l'icona del personaggio cioè il riguardo del personaggio è colore argento quindi è una rarità media le rarità sono divise ovviamente come bronzo, argento, oro e platino che sono rispettivamente se ci pensate come le rarità degli awaken R, S, R, SSR, U, R oppure LR qua vediamo il risultato della pull a volte in una sola pull ci possono essere più carte in questo caso abbiamo ottenuto soltanto barter ma di rarità argento è un personaggio che non avevamo e quindi va inserito nella nuova collezione e ce lo segnala una volta riscattata quella battaglia vinta come potete vedere c'è un timer in questo momento di 57 minuti e 40, 39, 38 vabbè insomma avete capito sotto c'era quest'altra che abbiamo riscattato prima mancano pochi minuti per poterla riaffrontare e allo scadere di questo timer poi si potrà affrontare di nuovo la battaglia mentre invece questa che abbiamo perso vediamo che cosa accade cliccando su questa che abbiamo perso ok grazie che mi hai ricordato che sono un perdente ovviamente non abbiamo ottenuto nulla nessuna ricompensa battaglia persa vediamo se possiamo riaffrontarlo ok è ancora è ancora lì entriamo nella battaglia credo credo non ricordo bene perché in alto dove c'è il personaggio di Recume ci sono quelle tre tacchette che sono penso la vita non ricordo se aveva più vita però adesso sappiamo poiché lui comunque di base è un fisico perché si vede comunque anche queste carte qui hanno la loro peculiarità del dei colori da rispettare se dovessimo affrontarlo con degli STR andando quantomeno a colmare quella che è la sua potenza in questo caso 4000 non so se riuscite a vederla possiamo selezionare alcuni STR per cercare di affrontarlo useremo le risorse meno forti che comunque c'è la cosa di questo giochino è che quando utilizziamo gli sticker vanno persi cioè sono consumabili una volta usati non possiamo riusarli rimangono come carte che abbiamo trovato all'interno della collezione ma bisogna ritrovarle altre volte per poterli riutilizzare e come avete potuto vedere il metodo di pullare e accedere tutti i giorni perché c'è un login speciale all'interno di di pet and battle non solo dovete fare login in dock dovete entrare in pet e fare login e otterrete ogni giorno una pullata in più dovete riuscire a vincere le battaglie per ottenere altre pull quindi giostratevi bene queste situazioni adesso siccome questo è il livello hard rispetto al normal andiamo con più di un personaggio e ovviamente come abbiamo detto andiamo di STL userei Tenshinan e Krilin di cui abbiamo due copie non si possono usare più copie dello stesso personaggio quindi dobbiamo per forza utilizzarne almeno due diversi si può anche riempire però cerchiamo di mantenerci con due vediamo se riusciamo a batterlo selezionando le due come potete vedere il diciamo le tacchette che erano in cima sono diminuite non so se riusciamo a batterlo matematicamente però le lancette in alto dovrebbero anche determinare il minutaggio che dovremmo aspettare per il completamento della missione se non erro andiamo avanti vediamo così entriamo in battaglia primo personaggio che lo pesta ovviamente Tenshinan sotto la barra del nostro nemico c'è quel timing in questo momento 59 minuti quando lo ho affrontato ieri erano uscite 4 ore quindi in base al numero di personaggi e di vita che il personaggio gli resta il tempo cambia non possiamo fare altro è comunque una modalità dove si ottengono cose passivamente quindi possiamo uscire dalla battaglia e aspettare quell'oretta facendo altro risulta la battaglia in corso con le nuvolette che si pestano nel frattempo la battaglia normal che stavamo aspettando si è ripristinata possiamo entrare e affrontare anche lui contemporaneamente e fare più missioni in questo caso Dodoria è STR quindi potremo affrontarlo con personaggi AGL ha 2250 di potenza quindi per garantirci questa vittoria credo dovrebbe bastare il barter quello là di rarità bronzo non quello argento che abbiamo appena pullato dovrebbe bastare perché è 2600 facciamo ok e si avvia la battaglia in questo caso però bisognerà aspettare 4 ore per ottenere i premi abbiamo in questo caso due battaglie in corso più quella che si deve ripristinare in questo caso noi siamo nella sezione delle missioni training non possiamo tornare indietro per poter scegliere le missioni che riguardano gli zeni le awakening metal oppure le orb bisogna per forza di cose chiudere le missioni che sono presenti qui per poi andare su un altro su un'altra terra perché è diviso in terra se volessimo per esempio affrontare il freezer in zetard vediamo che questa barra che come vi dicevo sia penso energia che tempo è lunghissima arriva fino alle lancette di colore rosso se addirittura invece clicchiamo quella super con freezer lr andiamo nelle lancette viola e ce ne stanno ancora quindi più avanti ci saranno boss ancora più difficili da affrontare se volessimo entrare in freezer che ha 7250 di tipo tech beh diciamo che le nostre uniche possibilità di vittoria sarebbero affrontarlo con Goku e non è abbastanza cioè è anche fin troppo equilibrato probabilmente dobbiamo riempire il più possibile magari utilizzando anche Krillin il Goku ci leva un bel po' di tempo e volendo anche Gohan e così sicuramente lo battiamo vatti rimane con una sola tacchetta io per il momento però non mi sento ancora di affrontarlo così preferisco studiarmi bene come funziona il tutto e nel frattempo aspetteremo che queste battaglie finiscono per ottenere altre ricompense come abbiamo visto all'inizio con quella lì in normal mode se volete sapere come andrà a finire ragazzi io sono in live tutti i pomeriggi a partire dalle 16 a volte le 17 sul canale Twitch ma sullo il futuro mi raccomando fate un salto in live perché ci divertiamo sempre e vi posso dare istantaneamente face to face i consigli per godere di un'esperienza migliore vi ringrazio di aver visto il video fino a qui vi do un bacione ci vediamo in live ragazzi come vi ricordo trovate anche tutto nella descrizione ma sullo il futuro questo qui ciao